Sono Daniele Rossi, conosciuto come il figlio di Pierin. Mio padre, Pierino Rossi, è emigrato con mia madre a Toronto, Canada, alla fine del 1960, dove io e mia sorella Ernesta siamo nati e cresciuti. Mio padre non ha mai perso il legame con Castiglione, non sostante vivesse a un oceano di distanza. Mio padre ha dedicato infinite ore al Carovillese Social Club, che fondò qui a Toronto nel 1982. Grazie al club, tutti noi giovani, la gioventù che non siamo più così giovani, abbiamo una connessione e bei ricordi di feste, picnic, tornei di bocce, giochi di mazza e pibs e naturalmente quella porchetta lunga di un metro e mezzo. Mio padre ha iniziato a scrivere libri sulla storia del suo amato paese natale, ritirato da una lunga carriera di successo nel settore delle costruzioni. Ero un OB che gli piaceva fare, e grazie all'internet una lunga e dimenticata storia di Castiglione cominciò ad emergere davanti ai suoi occhi, quando incontrò e aiutò molti discendenti americani di emigranti di Castiglione che stavano ricercando i loro albri genealogici risalenti al 1800. Ed ora cominciò ad organizzare viaggi per fare conoscere alle terzo e quarto generazioni i luoghi dei loro nonni. Un bel ricordo che ho è un viaggio a Krebs, Oklahoma, negli Stati Uniti, che per lui era molto importante, che ho fatto con mio padre qualche anno fa. Abbiamo incontrato i nostri colleghi ricercatori genealogici di Castiglione e Carovilli e alcuni dei nostri cugini perduti da tempo. Mio padre ed io abbiamo avuto la possibilità di guidare fino alla strada dove viveva suo nonno quando è venuto in Oklahoma per lavorare nelle miniere. I nostri antenati lavoravano nelle miniere e aiutavano a costruire la chiesa nuova a Castiglione e una chiesa a Krebs. Mio padre ha continuato quella tradizione raccogliendo fondi tra noi discendenti per sostituire i vecchi banchi a Chiesa Nuova quasi centi anni dopo e per riparare il campanile a Krebs. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso la passione di Pierino nel ripercorrere la storia di Castiglione e Carovilli. Grazie al cugino Nicola Di Giacomo, Mario Paolucci e a Pina Mafoda che ha organizzato quest'evento. Uno speciale ringraziamento a mia cugina Franca Rossi e a Ben Domenico che insieme hanno dato a Pierino l'idea di fare ricerche della famiglia. Ed anche grazie a tutti da parte di mia madre ed Ernesta per l'affetto e il rispetto che avete dimostrato a Pierino nel corso degli anni.